Buon pomeriggio e grazie davvero di cuore per l'invito. Grazie a te. Stefano. Allora abbiamo un po' rivoluzionato la scaletta perché manca poco tempo quindi noi saremo molto molto sintetici anche perché abbiamo una sorpresa in più. C'è anche la presidentessa di Modena Volley quindi vogliamo lasciare uno spazio in più all'intervista dei ragazzi che farà insieme alla signora Katia da parte di Maurizia. Prima però l'ultimo domandone del sondaggio poi è l'ultimo, straultimo. Questo perché pallavolo significa squadra e un po' per le due domande veloci che vogliamo porre per la sua esperienza a Maurizia e lo spirito di squadra è un elemento determinante che radona il lavoro di tutti i giorni, di tutti noi, di tutti i manager. Quindi nell'affrontare la sfida della trasformazione digitale qual elemento ritieni fondamentale per creare una squadra vincente? Massimo due risposte. Ho suggerito io di mettere anche budget però non mi voglio influenzare. Non credo sia l'elemento determinato. Apriamo il sondaggio. Intanto mentre aspettiamo questi 40 secoli, ecco già si popola, vedi? Che bello collaborazione. Ero curioso di sapere ma non lo dire subito intanto sarebbe la, tra virgolette, la prima domanda. Chissà se tu in pallavolo vedi le stesse percentuali che c'erano qua. Posso già dirle? Aspettiamo. Aspettiamo. Ma diciamo che se la prima sta adesso. Aspettiamo, aspettiamo. Si stabilizza. Leadership, talento. Direi che la collaborazione stravincia la grande. e sono pienamente d'accordo in quanto non si vince da soli ma si vince di squadra e talento e leadership siamo presso a poco sulla stessa percentuale. Per quanto riguarda il budget è vero che avere una squadra che investe molto col budget dà grandi risultati ma non sempre così perché nella mia esperienza ho avuto un invitato in squadre, si finisce, squadre super blasonate con mega budget e non abbiamo portato a casa nessun risultato perché mancava appunto la collaborazione. Quindi io sono pienamente concorde con questa risposta. Assolutamente. Con questo disegno. Sì colgo l'occasione anch'io per ringraziare tutti quelli che collaborano al Vem Forward perché ovviamente è un lavoro di mesi, è un lavoro molto duro. Ci sono i ragazzi in regia, ci sono Maria Elisa Tampieri che è la responsabile marketing di Vem, Francesca Marezzi, tutti che insomma collaboriamo affinché possa essere per voi oggi una giornata veramente positiva e di ispiratrice in qualche modo. Faccio io la prima domanda o la vuoi fare tu? Allora. Come vuoi. Faccio io, faccio io perché sono stata a proposito di ispirazione, sono stata ispirata stamattina da Francesco Morace perché alla fine ha detto una cosa che mi ha fatto ricordare te perché sei effettivamente una delle migliori palazzatrici del mondo praticamente lo sei stata e lo sei stata. Ho preso un premio come migliori palazzatrice, sì. Esatto. E per me è sempre stato un ruolo molto difficile, molto difficile perché occorre veramente questo blink di cui parlava stamattina Morace e non solo, occorre anche per le aziende ma durante anche solo i momenti in cui vi riscaldate prima della partita tu devi, che sei il palleggiatore, vedere come stanno i tuoi giocatori e non solo quindi vedere cosa succede dall'altro campo ma quindi avere una capacità di adattamento, di versatilità, di lettura, di ascolto. Quanto è importante questo blink in pallavolo? Credo che per un atleta ma poi per un palleggiatore, quindi un regista sia fondamentale perché a mio avviso un regista non deve essere soltanto un leader ma un fotografo. Io utilizzo sempre un aneddoto in quanto nella mia squadra ho avuto tantissime giocatrici molto forti che erano dei punti di riferimento molto importanti. Io ho un'immagine di un'atleta straordinaria che in un momento particolare delle gare del campionato quando la chiamavo, lei era un opposto per chi non fosse un giocatore di pallavolo, non conoscesse il mondo della pallavolo l'opposto è quello che deve necessariamente buttare giù la palla e quindi io mi rendevo conto che quando incrociavo il suo sguardo e lei con le mani mi faceva questo movimento, io sentivo, cioè passavo la palla, quando lei faceva così io davo la palla a lei e mi buttava la palla contro rete o fuori. Non lo faceva sempre però a volte lo faceva. Era una giocatrice super blasonata, una giocatrice con tanti titoli, una giocatrice forte però aveva dei momenti di debolezza. Ecco, se io non avessi sentito forte il senso di collaborazione e spirito di squadra avrei dato comunque la palla a lei anche quando mi faceva questo movimento. Invece il valore della lettura, del sentire, del capire con chi stai lavorando ha fatto sì che io quando mi faceva così anche se non era un segnale, lei lo faceva perché era nervosa, io passassi la palla a un'altra giocatrice in questo caso portavo a casa il risultato perché l'altra giocatrice magari era più pronta in quel momento proteggevo la mia opposta e magari vincevo, ma anche no, però è lo spirito, lo spirito di lettura che è fondamentale per un regista C'era un regista, esatto. E per un manager anche. Così faceva, io vedevo, passavo dall'altra parte. Mi viene da dire e da suggerire anche per i manager, potrebbe essere un valore sicuramente importante. Stefano, cosa vuoi chiederle? Io ne faccio due in una, si dice doppia, che sarebbe fallo, non me lo fischiare. Siamo proprio tecnici, bravo. Due in una, no. Una è legata al discorso, stamattina ho sentito data analytics, analisi dei dati e quant'altro. Ho notato, soprattutto l'anno scorso, quando ho la fortuna di essere proprio lì sul parterre, che c'è una ricerca spasmodica, proprio quasi fanatica, su un tablet o su un pc, a fianco all'allenatore, una figura dedicata al data analytics. L'altra, perché era una doppia, la seconda domanda, invece è più legata, hai parlato di regista, mi viene in mente un'altra figura, il coach. Io mi sento coach a mia volta di una squadra, quanto è importante il coach e se c'è un aneddoto, un qualcosa di particolare come emblema di questa figura del coach. Il coach è un'altra figura fondamentale, soprattutto nel mondo femminile, perché si dice che le donne non fanno squadra, però io sono dell'idea che quando le donne fanno squadra, lo fanno in maniera molto più forte rispetto agli uomini. L'allenatore diventa davvero il grande punto di riferimento. Io sono uscita di casa, avevo 15 anni, avevo pochissimi punti di riferimento, sono andata a giocare in una squadra di serie A dove a nessuno interessava da dove arrivassi, chi fossi, che cosa facessi. Io dovevo fare la palleggiatrice di questa squadra e per me è stato il primo step in mondo lavorativo, perché comunque una squadra è un'azienda, il DNA di ogni giocatore è il DNA di un'azienda, di una squadra. E quindi il mio primo allenatore è stato Bernardo Roccia, che è il padre di Bruno, quindi facciamo una carambata incredibile. E lui mi ha insegnato proprio ad avere il rispetto di ogni allenamento che facevo. Io chiedevo come posso essere un leader e lui mi ha sempre risposto in una maniera molto semplice, sii sempre te stessa e questo ha fatto sì che io crescessi e che tenessi sempre ben chiaro il concetto che ogni allenamento buttato via è un essere lontano dall'obiettivo. E quindi per me questo è stato un anno, forse due, di formazione non solo di bagger e palleggio, ma anche di come fare squadra. Per quanto riguarda la digitalizzazione è un incubo, perché mentre prima si poteva sbagliare, e quindi l'allenatore si arrabbiava con lo schiacciatore o col palleggiatore, quindi qualcuno riusciva a venirne fuori. Non aveva le statistiche, vuoi dire? Adesso con le statistiche siamo tutti alla luce del sole, quindi non se ne esce. Però ben venga, perché si riesce a studiare molto bene chi siamo e qual è il nostro avversario. E si riesce anche a evolvere la strategia dinamicamente durante la partita, immagino? Sì, dipende molto da come ricepisce poi la squadra, nel senso che io ho chiaro com'è il mio avversario, ma se poi non metto in funzione tutte le tecniche... Poi magari lo chiediamo ai ragazzi. Esatto, sarebbe lo meglio. Ecco. Ok. Ti lasciamo il palco. Ma ora mi lascio a te sola, ma io sola non so stare, quindi chiamo una fantastica squadra. Passo qua dietro. Con la presidentessa Katia Pedrini e due straordinari atleti, Bruno e Martin, che verranno qua con me, non sono una grandissima intervistatrice, però... La mettiamo in mezzo la presidentessa? Ah, ok. Dunque, comincio subito dalla nostra presidentessa, perché chiedo come... Quanto è difficile riuscire a gestire tanti leader, tanti talenti e tanta creatività? Buon pomeriggio a tutti. Diciamo che la gestione dei ragazzi non è in nessun modo di competenza mia, ma quello che mi ha spinto a dedicarmi, perché alla fine, insomma, la mia vita adesso è totalmente dedicata alla pallavolo, è stato una serie di sentimenti forti e di bisogno di restituire alla mia città, dove la pallavolo è gioia, è entusiasmo, è senso di appartenenza e quindi questi ragazzi a Modena insegnano quello che è il rispetto, quello che è la collaborazione, quella che è l'allegria, quello che è l'affetto, quello che è la sofferenza condivisa nelle sconfitte, anche quelle che bruciano veramente tanto, è un modo comunque di dare la possibilità di una visione e di un futuro possibile, pulito, però pieno di energia, di sogni, di sogni che ti fanno sudare tanto tutti i giorni, però insomma non quello da paese dei balocchi, di risultati guadagnati, come tu sai bene, solo, con tanto sacrificio, con una struttura comunque molto complessa, perché una squadra di Serie A, anche nella pallavolo, ha poi necessità, oltre all'eccellenza dei giocatori, dello staff, questo coach che così dopo tanta fatica sono riuscita a portare a Modena, sostiene che quando tu hai dei giocatori come Bruno, come Erwin, per fare i nomi dei più conosciuti, diciamo, anche tutti coloro che lavorano intorno alla squadra, devono essere al loro livello, cioè tu non puoi comunque investire tanto su un giocatore e non investire sulle risorse che poi insieme devono portare questa squadra e per squadra intendo tutta la squadra, tutte le persone che fanno parte di Modena Volley a vincere. Quindi la creatività e la capacità di adattamento, oppure, mi veniva da ridere perché se l'intelligenza è di dire la risposta istintiva, io sono veramente stupidissima, ma a volte io credo che invece anche mantenere quella componente che in uno sport come la pallavolo è motore, che è proprio anche tutto quello che tu porti durante la gara, perché durante la settimana lo svolgimento del lavoro è regolare. Ma io, per esempio, arrivo in prepartita, che non conosco più neanche mio figlio, praticamente, Bruno trasforma lo sguardo che sembra che sia stato truccato. Trasforma. Si trasforma, Bruno si trasforma proprio. Trasforma lo sguardo completamente, delle volte ha anche proprio la bocca assettata di sangue, ma lo sguardo è, io li conosco bene, hanno tutti più o meno l'età di mio figlio, e quindi io li osservo con anche la prensione che avrebbe un educatore, un genitore, non voglio dire una mamma, che sembra però, insomma, un po' sì. E molte volte io capisco, capisco durante il riscaldamento, come stanno, come andrà la partita, è chiaro che quando hai squadra uno come Bruno, quando hai guardato lui, sei già a metà, l'anno scorso, che purtroppo, insomma, abbiamo vissuto questo stato da orfani, senza di lui, perché, insomma, Bruno per Modena è la pallavolo, Bruno è il nostro amore, il grande amore, insomma, tutti uniti nel nome di Bruno, beh, sì, insomma, Bruno per noi rappresenta veramente tantissimo, quando c'è Bruno, se guardi lui e capisci che lui sta bene, dici, beh, beh. Quando io parlavo dell'allenatore, che era suo padre, io devo parlare anche di lui, perché quando arrivai a Perugia, Bernardo, suo padre, aveva anche il piccolo Bruno, che avrà avuto, ora non so quanti anni, però non esagiamo, così fanno i calcoli quanti anni posso avere io, però, insomma, era molto piccolino, e Bernardo, suo padre, ci faceva fare degli allenamenti tostissimi, un giorno eravamo sfiniti, e a un certo punto arriva la signora che gestiva i bimbi loro, perché lui era col fratello, che ci dice che Bruno era rimasto sopra, forse non te lo ricordi, Bruno era rimasto sotto un mobile, perché giocava col fratello e il mobile è caduto, quindi l'allenatore ha dovuto abbandonare l'allenamento per andare a vedere cosa succedeva, quindi noi tutte felicissime, perché così ci siamo riposate. Quindi io ricordo questo ragazzino, davvero molto molto giovane, ma con una grandissima personalità. Vederlo ora in campo, mi dà molta soddisfazione, perché vedo tanto sia di lui che della madre, che è stata mia compagna di squadra, e quindi mi dava una serenità incredibile, perché quando succedeva qualcosa, io passavo la palla vera alla madre, e lei mi soluzionava tutto. Quindi è un po' nel DNA familiare questo. Ora io chiedo, quanto è importante riuscire a gestire anche la creatività, perché è vero che un palleggiatore come te è creativo, istintivo, esuberante, però alla fine deve essere anche versatile nei confronti dei propri giocatori. Domandone proprio alla Marzullo, però insomma... Sicuramente buon pomeriggio a tutti. Prima, come anche ha chiesto Stefano, oggi i dati sono tanti, tutte le squadre si studiano tanto, e forse la differenza proprio di un palleggiatore, di una palleggiatrice come sei stata tu, forse sia questo istinto, questo momento di creatività in una gara difficile, talmente studiata, nervosa, che c'è troppa tensione in queste finali, che può fare una differenza per un palleggiatore. Per questo sicuramente gli allenamenti ti danno la sicurezza di in alcun momento rischiare un po' di più e essere questo creativo, anche sapendo, come hai detto tu, gestire e sapere dove puoi arrivare, anche con i compagni che ce l'hai, e anche avendo questa sensibilità delle emozioni anche dei tuoi compagni, come hai detto tu prima, che in certi momenti possono essere più nervosi o che un altro. Allora questo è molto importante per il palleggiatore, avere questa sensibilità, però in tanti momenti sapere che la tua creatività può portare la squadra a vincere una partita proprio tosta. Ed è mai successo che un allenatore abbia cercato di toglierti la creatività, che è un dramma incredibile. Sì, all'inizio sì, anche quando tu in una squadra nuova, con tanti meccanismi ancora da aggiustare, quando le intese ancora non sono così, diciamo, proprio fatte bene, perché all'inizio devi proprio allenarsi tanto, perché la pallavola è uno sport che l'allenamento è proprio importantissimo, ripetere, 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 tu sai bene com'è. Diciamo che all'inizio devi fare le cose più semplici possibili, no? Noi abbiamo adesso un nuovo coach, che è Rado, che sta provando di mettere questo nella nostra testa, nel nostro DNA, di essere un po' più semplici, almeno a questo inizio di stagione, che i meccanismi ancora non lavorano. Però non può togliere, diciamo, questa creatività, diciamo, di giocatori importanti, che ce l'hanno, come Erwin Ngapet, che è uno che ha proprio, deve equilibrare un po', perché ha tanta di questa intuizione, gioca solo con questa, e qualche volta può sbagliare un po' troppo, perché è troppo istintivo, no? Però quello che secondo me è quella cosa importante è che deve saper avere l'equilibrio, come ci ha detto prima il professore, si incorizza che ha detto un po' di questa, dell'equilibrio, delle emozioni, no? Di sapere dove arrivare, questo sicuramente per noi è importantissimo. Grazie. Ora passiamo a Martin. Io sono rimasta molto colpita, perché ho letto che quando sei arrivato a Modena, la tua prima, una delle prime interviste è stata quella di voler vincere tutto, e a me piacciono le persone che hanno il coraggio e non hanno paura di dire vedremo come andrà, no, è una cosa molto positiva. So che l'anno scorso a Modena, lui non c'era perché era in Brasile, lui ci tiene a sottolineare, però insomma a Modena gli ha fatto un mazzo così, quindi la presidentessa ha pensato bene di ingaggiarti. Ora, con te vorrei cambiare invece di, vorrei parlare invece di cambiamento. Quanto è importante per te e come hai gestito i vari cambiamenti? Perché arrivi dall'Olanda, hai giocato a Ravenna, ora sei a Modena. Qual è la tua filosofia, insomma, di pensiero per quanto riguarda il cambiamento? Sì, ok. Buon polizio a tutti, soprattutto. Il cambiamento, venire a Modena per me è stato importantissimo. Ho giocato due anni a Ravenna, infatti in A1, è una squadra comunque forte, però non come Modena, dove si vince i trofei e dove tutte le partite c'è un pubblico dietro incredibile che aspetta che vinci. Io volevo fare un passo in avanti e volevo infatti arrivare a un punto dove potevo vincere qualcosa in questo campionato più forte del mondo e sono arrivato da Modena, sono contentissimo e dal primo momento infatti io ho proprio sentito questa voglia, questa fame di vincere. Si sente anche dentro la squadra, facciamo i giochi durante gli allenamenti, si litiga, perché comunque giochiamo uno contro l'altro e infatti siamo appena cominciati, non si gioca più. Non si sa come finire. Tutti i giocatori, ognuno ha la voglia di vincere è importantissimo sicuramente. E l'allenatore come gestisce già tutti questi litigi all'interno perché volete vincere tutto? Lui forse prima di tutti vuole vincere. Esatto. è uno che fa tutto a casa, fuori campo, in campo, di farci dare tutto, di non avere nessun dubbio per come stiamo in campo, fisicamente, come stiamo, gira la palestra, sale i pesi, come ognuno fa le sue cose, vuole controllare tutto, ma per l'unico obiettivo di mettere a terra l'ultimo punto. siamo molto contenti ovviamente con Rado Stoicev. Perfetto. Io volevo solo dire a Stefano che non vedo l'ora di poterti presentare il nostro coach perché in realtà Rado Stoicev è uno dei grandissimi sostenitori dell'importanza dei dati. Grandissimo. Tanto che lui è venuto con il suo staff, il secondo allenatore, il suo scout, ma noi abbiamo tentato in tutti i modi di tenere a modena anche quello che è stato il nostro scout negli anni precedenti, Roberto Ciamarra, perché al di là del fatto che condivido assolutamente l'importanza delle persone, quindi si creano dei legami molto forti che finiscono per aggiungere energie positive, ma Rado disse che il suo sogno era lavorare con due scout, cioè studiano una quantità di dati che io non ho mai visto fare da nessuno. No, veramente, cioè le ore di preparazione nella partita, anche perché noi, anche se abbiamo cambiato molto, rimaniamo una squadra che ha una fortissima componente agonistica, insomma, il coltello fra i denti ce l'abbiamo spesso. Questo, però, è, come dire, ha un doppio aspetto, quindi devi cercare di dosare, perché rischi, magari, nei primi due set di esaurire le energie, perché è costosissimo. e nell'ufficio noi abbiamo, stiamo lavorando con un'analisi, un'analisi, una raccolta, un'analisi dei dati, proprio per... Chiamano Big Data, perché sono grandi dati che è decisamente pertinente col nostro mondo. il nostro mondo, chissà che... Ti volevo raccontare, te ne volevo parlare, perché invece, insomma, è una cosa che io e Simone abbiamo voluto fortemente, noi siamo un po' le matte del villaggio, ma perché il futuro e la visione... Vedono quello che non vedono gli altri le volte, no? I matti, quindi... grazie.